E' indecente che un giorno dopo non si sappiano i risultati definitivi dell'affluenza, anche perché Maroni aveva sparato di aver superato il 40% di affluenza, più di 3 milioni al voto. Sappiamo ormai per certo che l'affluenza si attesterà intorno al 38%, ma qualche grave è che i dati non ci siano ancora. Io penso che bisogna mettere da parte l'arroganza e Maroni debba chiedere scusa per i disservizi che ci sono stati, per le tante persone che hanno lavorato ai seggi e sono rimaste bloccate fino alle 2 di notte per l'incapacità di Regione Lombardia di gestire questo nuovo sistema. Quindi un po' di sano pragmatismo lombardo nel riconoscere che qualcosa nel sistema evidentemente non ha funzionato. Il secondo dato politico riguarda la differenza enorme rispetto al Veneto. Più del 20% di distacco in termini di affluenza devono far pensare il governatore. Deve essere meno arrogante, deve riconoscere che questa è una sconfitta e deve venire in aula per dire vogliamo lavorare insieme.